Sì, vi trovate allo speciale dedicato ai campi nomadi lucchesi. Prima di sentire il prossimo contributo che abbiamo registrato, direi di fare un rapido passaggio di opinioni appunto sui messaggi che sono arrivati e su quello che ci dicono da parte dell'opinione pubblica, che ovviamente bisogna tenere assolutamente in considerazione. Sindaco Tambellini. Sì, mi sembra che dai messaggi che sono stati letti ci siano delle cose non comprese. Qui si continua a distinguere tra cittadini lucchesi, cittadini italiani e cittadini di altro genere. Qui tutti sono cittadini, deve passare questa idea perché tutti quanti hanno dei diritti, non solo i lucchesi. La legge non distingue tra lucchesi e non lucchesi, bisogna capire questo. O si capisce questo, si capisce che nelle gladiatorie si entra tutti, entrano i lucchesi e i non lucchesi, o altrimenti si continua a fare discorsi che non tornano. Ma ribaltiamo il discorso, c'è una corsia preferenziale di aiuti per i rom e per i sinti, per i nomadi o no? No, non c'è una corsia preferenziale. Quello che mi indigna è che siamo stati accusati di avere speso per i rom, delle cifre che rappresentano lo 0,47 della spesa per il socio sanitario, lo 0,47 e sono state spese anche per dotare le roulotte che avete visto in precedenza di un estintore per evitare gli incendi. Incendi che possono causare tragedie come le hanno causate da altre parti. Ma di cosa stiamo ragionando qui? Ma che sono questi modi per poter valutare un operato e per poter accusare qualcuno di qualcosa? Ma stiamo scherzando. Quindi lei dice che il Comune aiuta tutti i cittadini, non è che aiuta i rom a scapito di qualcun altro. Il Comune aiuta tutti coloro che sono nella necessità di essere aiutati. E non ci sono per l'assignazione delle case come quelle di Via Brunero Paoli, se si faranno, se la Regione approverà quel progetto. Non ci sono corsie preferenziali per qualcuno. Cioè ci sono delle gradatorie che devono essere rispettate per tutti coloro che si trovano in situazioni di emergenza. Questo è il dato di fatto. Poi le soluzioni andranno concordate, ripeto, con le varie comunità e dal nostro punto di vista riteniamo più serio un inserimento, per dire così, plurimo, come anche prima si è fatto riferimento. Un inserimento che potremmo chiamare a mosaico, superando la concezione del campo di residenza, del campo stanziale. Valentina Mercanti. No, ma rispetto ai messaggi me li aspettavo, anzi, quando ho battuto ho chiesto se c'erano anche offese, perché in effetti veramente il clima è pesante. Basta andare in città in questi giorni, uno si ferma a un bar a prendere un caffè e tutti, ognuno di noi credo venga salito da commenti vari che non sono piacevoli, lo dico sinceramente. Però è una cosa che capisco benissimo, cioè in un momento, come faceva prima riferimento il Presidente Baccelli, di crisi economica così grave, dove ognuno di noi è esasperato e preso adesso mille problemi, il rischio è vero che se non ci togliamo noi per primi un approccio ideologico a parlare di queste cose, rischiamo veramente di vicolare il messaggio sbagliato e creare una guerra fra poveri. Cioè nessuno si concentra solo su Rom, piuttosto che su Lucchesi Doc o su altri tipi di immigrati. Si sta cercando di lavorare a 360 gradi, basta venire a vedere e aver la voglia di sfogliare le convocazioni del Consiglio, piuttosto che quelle delle commissioni, piuttosto che per rendersi conto che poi in realtà non corrisponde assolutamente alla realtà. Anche perché, almeno per quanto mi riguarda, mi approccio alle questioni cercando di non avere mai un approccio ideologico alle cose. Quindi quando dico che per me non ci sono cittadini di serie A o cittadini di serie B, intendo che ci sono cittadini che hanno parità di diritti ma anche parità di doveri. Quindi mi ha fatto molto piacere in questo senso, mi ricollego al primo contributo che abbiamo visto del ragazzo Rom perché è lui stesso che ha tirato fuori il tema della legalità. Giustamente su questo dobbiamo ragionare, non abbiamo intenzione né di regalare niente a nessuno ma semplicemente di ripristinare una situazione veramente che così non può andare avanti. L'altro spunto di riflessione che mi piacerebbe provare a lanciare ma sul quale poi sarebbe bello poter approfondire anche con la città l'argomento. Poi chiediamoci quanto costa tenere e quanto c'è costato dall'insediamento ad oggi mantenere quella situazione che è il campone. Quanto costa la collettività tenere in piedi quella situazione? In quella situazione è chiaro che l'alloggio abitativo secondo me parte dall'abitazione e poi parte anche l'integrazione perché un bimbo, premesso che non è accettabile per me che un bimbo non lo sceglie di sua volontà di vivere in quel campo, in quelle condizioni precarie, ma un bimbo che nasce e cresce in un campo nomadico come si può pensare che da grande diventi un bimbo come tutti gli altri? Cioè non può, gli priviamo il diritto di portarsi amichetti a casa a giocare, a studiare, vive in condizioni troppo freccare per diventare da grande una persona, lo virgoletto, ma per far passare il termine normale, cioè questo o si interviene o se no saranno sempre a carico della collettività. Allora se vogliamo ragionare di costi credo che sia interessante andare a fare un'analisi su quanto oggi è costata le casse comunali queste situazioni e su questo provare a ragionarci insieme proprio con la città, in questo senso mi sento di sposare in pieno la proposta che faceva Fatti, cioè non può essere un problema solo lucchese, c'è un'emergenza abitativa, ripeto ci sono minori in quel campo, ci sono bimbi, cioè non si può accettare che i bimbi siano con le gelate, la neve, il rischio fiume, tutti i pericoli annessi e connessi, incendi in una situazione del genere, perché nemmeno con i grandi è accettabile, ma con i bimbi ha maggior ragione, quindi in questo tramite la conferenza zonale, tramite altri strumenti, tutti i comuni, almeno della Piana, si devono prendere carico la situazione che si è stanziata sul territorio di Lucca, ma come ha detto bene il sindaco si parla di persone, non si parla di bestie, quindi tutta la collettività se le deve prendere a carico. Facciamo parlare Fazzi e Baccelli. Sì, ma anch'io sono convinto che Lucca è una città di persone molto tolleranti e quello che noi sentiamo in realtà, e tantomeno non è una città razzista, perché queste cose noi le sentiamo, sentiamo i commenti, li possiamo sentire per strada, al bar, parlando con persone conoscenti, anche che ci approcciano proprio in questo momento di discussione, però a me almeno non è mai capitato di sentire inveire nei confronti di queste persone. La protesta è nei confronti degli amministratori, questi dicono ma come? Si ricomincia? La sensazione è di una tela di Penelope che si fa e si disfa la notte, continuamente. Allora, anche in questa fase qui, io mi permetto di invitare il Sindaco, non voglio confondere i ruoli, ma credo che anche all'opposizione competa in qualche modo sollecitare e caldeggiare atteggiamenti e soluzioni, di non inseguire il finanziamento regionale, pur benedetto che sia, ma dare delle soluzioni che siano definitive, perché ora abbiamo la sensazione, magari si è voluto dire che è soltanto un problema della stampa, io non credo che sia un problema della stampa, ma non ci voglio entrare, c'è, è stato detto, no, stasera no, ma è stato detto in Consiglio Comunale, però la sensazione è che si proceda a tentoni, cioè si è sentita prima un'ipotesi, poi il Sindaco è intervenuto, ha detto no, ferma Viettina, adesso se ne parla, poi ne è venuta fornata, adesso ce n'è un'altra ancora. È chiaro che i cittadini si preoccupano, anche per le tasche, non perché non si deve spendere niente, perché si risparmia di più, per esempio, fare un intervento intelligente, auspicabilissimo sul teatro, si fa prima, si risparmia di più, e in questo momento qui forse sarebbe anche un segnale, ma lasciando perdere, come dire, l'importante è che si veda una soluzione, allora quello che attualmente non si vede è una prospettiva di risoluzione. Queste persone a un certo punto, sì, ok, la prospettiva dell'abitazione va benissimo, ma tenendo conto che da una parte c'è una città che dà, ci sono degli assistenti sociali che si impegnano, del personale comunale che si dà da fare e agisce con grande professionalità, dall'altra c'è persone che ovviamente richiedono questo disequilibrio, cioè che noi andiamo più verso loro di quanto loro non fanno verso di noi. Però a un certo punto bisogna anche chiarire che a quelle condizioni, a un cittadino normale, i figli vengono tolti, gli vengono tolti, allora va chiarito che si assumono delle responsabilità o no, perché noi ci commuoviamo e dobbiamo commuoversi, però dobbiamo anche dire a queste persone che nella lingua che glielo vogliamo dire, se glielo deve dire qualcuno così ammantato di diverse missioni, lo faccia pure, però a questa gente bisogna anche parlare chiaro, va fatto in modo che si capisca che il percorso comunque è ben segnato. E allora, senza diventare leghisti, perché ho la sensazione che per esempio la posizione attuale di Forza Italia a Lucca, a differenza di quello che succede altrove, prendo solo un attimo, sia omologata a quella della Lega, ma è venuto Don Virginio Colmenia a Villa Bottini in un deserto d'incontro, ma ha detto delle cose precise che ha fatto con la Moratti e con Formigoni, le ha fatte con la Moratti e con Formigoni, cioè quello che ci è stato presentato e che consiglieri comunali, esponenti politici di Forza Italia, eccetera, hanno bellamente snobbato, è quello che nasce lì, certamente non su iniziativa di… quindi voglio dire, cerchiamo un po' di equilibrio. Facciamo parlare Baccelli. Ma io come cercavo di dire, secondo me nell'amministrare, difficilmente ci sono le cose positive e negative in assoluto, c'è un contesto di tempo e un contesto di condizioni economiche e anche di luogo di cui va tenuto conto. Allora oggi, se questa questione la risolviamo nel dire 2 milioni di Euro per risolvere il problema del campo nomadi, non la si spiega ai cittadini, è inutile, andiamo a sbattere nel muro e in più costruire in un luogo non idoneo laddove ad oggi gli strumenti urbanistici non lo consentono. E allora prendo spunto invece nella parte finale del primo intervento del Sindaco, proprio perché secondo me va reimpostata questa vicenda, va fatto capire che occorrono dei criteri di equilibrio e anche di merito, chiamiamolo merito per l'appunto. Chi ha un piccolo lavoro o un lavoro importante deve pagare un affitto, chi è in condizioni di evidente disagio, comunque si deve, vuole dire, dar prova certamente di meritare quell'aiuto. Chi ruba e va sanzionato, dobbiamo trovare una forma equilibrata tra legalità ed accoglienza, che non è facile, che è una strada complessa, che passa in primo luogo anche appunto dal capire le singole necessità, ma non si può far finta di non vedere, erano assolutamente prevedibili questi messaggi, perché insomma, voglio dire come Matteo Renzi, che sto tra i rioni, perché a Lucca ci sono tra i rioni, ma per strada e nelle piazze ci sto e quindi le ascolto anch'io. Ma l'amministrare è proprio la capacità, non di assecondare tutte quante le pulsioni, ma cercare di costruire, di progettare con un poco di lungiberanza, tenendo conto del contesto economico, sociale in cui si vive, quindi di fare del nostro meglio. Bisogna anche capire che si tratta di, in questo caso mi permetto di dire, che si tratta di problemi che in alcuni casi hanno 60 anni, in altri ne hanno 15. Perché diceva Pietro? Allora, cerchiamo intanto, No, ma non c'è l'atteggiamento di crocefiggere nessuno. Visto il momento molto complesso dal punto di vista anche economico, cerchiamo intanto di approfittare delle possibilità che abbiamo nel momento economico di oggi. Poi il patto di socialità, per cui si sta in una comunità e ci si sta rispettando le regole, questo è un discorso fondamentale, ma l'ha detto anche Colmenia l'altra sera questo aspetto, perché nella società ci si sta nel rispetto di alcuni principi fondamentali che impegnano tutti e impegnano anche i Sinti, i Rom, gli immigrati da altri paesi, eccetera. Questo è il discorso di fondo. Mi scuso con il Sindaco, ma ci dobbiamo interrompere di nuovo la linea alla regia, poi torniamo tra pochissimi istanti. Grazie.